ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video oggi siamo qua per pullare per la signorina Deia appunto verrà messa nel permanente quindi non l'ha voluta pullare praticamente nessuno infatti questo video verrà abbastanza corto però c'è qualcuno che ci crede ci crede in lei e quindi la vogliamo pullare io cercherò di prendere prima la sua arma perché l'arma non so quando tornerà e poi se riesco anche Deia però l'obiettivo principale oggi è l'arma non costello oggi vado molto tranquilla perché essendo un personaggio finirà nel permanente non ne trovo l'utilità in questo momento di trovare altre costellazioni terremo tutto per sicuramente i baizu cave che stanno arrivando io vi auguro buona visione e divertitevi durante le pull partiamo da pt 0 tondo e andiamo a pt 10 4 stelle allora io mi sento che oggi nel bandelarmi ci spendiamo parecchio io mi sento che oggi nel bandelarmi ci spendiamo parecchio ci spendiamo veramente tanto staremo a vedere staremo a vedere se il gioco è magnanimo o no io vi dico personalmente la vedo dura vabbè queste banner armi quindi qualsiasi armetta a 4 stelle vedo non è che mi ammazzano particolarmente quindi non mi arrabbio nemmeno perché alla fine è dove dovrebbero uscire uscissero solo qui non sarebbe male no in realtà non è vero se uscissero solo qui sarebbe difficile per i free to play avere un po' qualche copia di rust qualche sacrificio a sword qualche stringless eccetera eccetera quindi in realtà non è una cosa così malvagia che escano anche di là siamo a pt 10 andiamo a pt 20 4 stelle vabbè siamo all'inizio del pt io preferirei trovare appunto dei a inizio pt qua se lo troviamo abbastanza alto è comunque più basso di là quindi andiamo un'altra un'altra spadone sacrificale molto caruccio molto molto caruccio ci piace assai vediamo vediamo ok e niente andiamo a pt 20 andiamo a pt 30 così pt 30 siamo più o meno a metà del pt adesso perché vi ricordo che nel banner army il soft è a 66 e non a 76 ce ne sono praticamente 10 in meno da dover fare banner delle army se può uscire un personaggio tra probabilmente quanti 30 personaggi 4 stelle usciti dall'inizio del gioco se ne potrà uscire solo uno sarà sempre quello nel mio account c'è una sola religione ragazzi miei embrace it embrace it embrace it io non mi stupisco grazie grazie apprezzo io non mi stupisco minimamente minimamente amici zero totale non mi stupisco 3 4 stelle in multi qui veramente tanta roba qui veramente tanta roba ragazzi 3 4 stelle in multi tra l'altro a me l'arco mancava andiamo a pt 40 4 stelle e si prosegue tu samuel hai trovato 6 volte quest'arco io era la prima e non mai trovare i pg nel banner army? si ragazzi miei sembra strano ma vi assicuro che è normalissimo buono anche qua ci piace ci piace ci piace vi assicuro che è normalissimo a momenti escano di più nel banner army personaggi che nel banner dei personaggi ok perfetto adesso andiamo a pt 50 4 stelle questo l'avevo visto un po' più indietro quindi ho detto va sarà che magari è no ok vediamo se abbiamo un altro 4 stelle personaggio no però le dragon's bay non sono male le dragon's bay non sono male allora andiamo questa questa e siamo qua quanta andiamo a pt 60 e poi andiamo tutto di singoline 4 stelle bene adesso si va di singole fino a che non esce il 5 stelle allora io ve l'ho detto il banner army oggi me lo sento malissimo infatti secondo me oggi io d'aia non me la riesco a portare a casa salve le stelle quindi proprio molto chill 61 4 stelle ottimo continuiamo così 62 voi spammate 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 comunque vada sarà un successo anche se si trova l'arma di Saino si refina non importa 63 sarebbe la prima arma 5 stelle che refina ragazzi mi potrebbe essere un nuovo record per me refina un'arma mai successo prima poi 64 eccola 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 la blade comunque abbiamo l'intero pt per fare il terzo quindi e poi con l'istagrit facciamo un paio di multi nel banner di Deia e niente poi tengo tutto che non ho proprio niente insomma tengo tutto per quando escono Baizu e cave questa la volevo questa la volevo questa è la mia C4 di Farusan grazie al cielo un personaggio che non ho costellato c'è grazie al cielo molto bene questa sono contenta perché appunto mi dicevo ce l'ho C3 C4 68 perché Genshin pensa che lo stia abbandonando eccolo qua ecco la pala ecco la pala no è giusto ok quindi devi farti il terzo pt nel caso così e te la porti a casa eccola qua eccola qua l'arma ce l'abbiamo 14 pt 14 14 4 stelle se vediamo con lei felicissima se no sono altre pool che si aggiungono se escono gli altri due se esce l'arma un po' meno perché sono 2 style glitter invece che 4 a noi ci piacciono più quando ci sono 5 style glitter però va bene bene ciao un saluto a Leliana sono a Leliana Bennet quindi 5 style glitter per me un'altra pool che si unisce molto bene ok vediamo se c'è un altro 4 stelle no 4 stelle ok 2 yes oh molto bene molto bene molto bene con lei c5 con lei c5 molto bene me ne manca soltanto una questa ce l'abbiamo ce ne manca una ce ne manca una poi siamo a posto ho fatto io si ho fatto io ho fatto io tranquillo tranquillo ok si si con lei ci sei 44 44 come i gatti 4 stelle vediamo se ci danno un'altra pool che si aggiunge noi siamo qua per prendere le altre pool ok 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 si che bello di lei mi mancano le costellazioni la prossima singola potrebbe già essere 5 stelle dai se esce dai bene se non esce ce ne facciamo una ragione è stata una pullata molto divertente oggi molto divertente ok ok questo è 76 adesso vediamo che cos'è cecae tre live di figli l'hai visto andiamo eccolo mio marito numero uno il mio preferito nel mondo io oggi ho chiamato anche di look io oggi l'ho chiamato ve l'ho detto ve l'ho detto io oggi l'ho chiamato io oggi l'ho chiamato il mio potere ve l'avevo già detto oggi inizio live cosa succedeva vestita pyro lo chiamo per forza a casa io oggi l'avevo detto possibilmente accompagnata da un altro 5 stelle che non sia lei nel caso ok è quello giusto avevo fatto bene il calcolo ok 75 76 77 molto bella la 77 78 79 eccola qui eccola qui ce l'abbiamo fatta siamo a peti 25 andiamo a peti 35 dei a subito a casa ecco eccomi anche io eccomi vi sto amo vi sto amo oh doppio 4 stelle 27 è il bless di france questo il bless di france dov'è 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 prima multi pullata oggi vorrei essere io ma non sarò io questa bravamo eccola ecco eccola va bene se no è un personaggio nuovo amen dai tanto la prossima faccia non c'è la seconda parte faccia ora non devi mica pulare né a yaka né scena te vai soltanto per farti pitili sull'arma e magari si esce in tre multi esatto vai dai vediamo cosa esce vediamo cosa esce se lo perdi mega gg se lo vinci nuovo personaggio eccoci 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 ok 85 86 87 vai 50 e 50 perso amo garantito garantito per qualsiasi che ti servirà top abbiamo fatto bene a scommetterci ed eccomi ci sei ci sei Barbara la bilda la bilda la bilda signori e signori la bilda la bilda vai andiamo ci siamo 5 stelle ok questa è pt75 la prossima è la 76 quindi quella che hai il famoso 20% in più di probabilità vi ricordo che abbiamo il 50 e il 50 con lei che no ora no sinceramente non ci serviva ho preso ho preso un infarto porca miseria ho preso un infarto 77 questa grazie per il follow benvenuti in live mi sento male 78 79 80 50 siiii abbiamo vinto il 50 siiii 5 stelle ok 65 ci siamo 65 la prossima è quella in retatto 66 lo skyward lo skyward 65 60 60 la prossima 60 62 61 62 62 62 63